ciao sono il dottor max benvenuto nella sezione della lista completa delle farmacie in italia in questa guida ti fornirò un elenco dettagliato di tutte le farmacie presenti sul territorio italiano nella lista troverai i nomi delle farmacie i loro indirizzi completi i numeri di telefono e codice della farmacia al fine di aiutarti a trovare facilmente la farmacia più vicina a te in questo video nello specifico ti elenco le farmacie che si trovano a bondino in provincia di ferrara in emilia romagna farmacia bene a snc di bene a bruno e ci piazza giuseppe garibaldi 71 telefono 0 5 3 2 8 9 3 1 7 5 codice 7117 farmacia dispensario galavotti di gennari federica strada provinciale 60 a codice 18.976 farmacia magni barbare bocca santa bianca snc via passardi 116 località scortichino telefono 0 5 3 2 8 9 0 7 4 2 codice 7.120 farmacia megabytes farmacicura snc della dottoressa elisabetta bosie figlie via amicis 22 22 telefono 0 5 3 2 8 9 3 0 2 0 codice 7116 farmacia pasti di pasti maria ed elisa snc piazza giuseppe garibaldi 38 40 codice 7 118 farmacia san matteo s as della dottoressa sarah baschirotto via virgiliana 132 località pilastri telefono 0 5 3 2 8 8 3 4 0 3 codice 7.121 farmacia soffritti via b ragazzi 192 località stellata codice 7.119 a bondeno non ci sono altre farmacie da segnalare in questo momento sappiamo quanto sia importante avere accesso a farmaci e prodotti sanitari di qualità soprattutto in momenti di necessità o emergenza ti invitiamo a utilizzare questa lista come punto di partenza per individuare la farmacia più comoda per le tue esigenze personali ti ricordo che la lista delle farmacie presenti in questa guida è basata sui dati disponibili al momento della sua pubblicazione pertanto ti consiglio di verificare sempre gli orari di apertura e le eventuali variazioni contattando direttamente la farmacia di tuo interesse il dottor max e il suo team sperano che questa lista sia di grande utilità per te e ti augurano un accesso rapido e sicuro a tutti i servizi farmaceutici di cui hai bisogno la tua salute è importante e siamo qui per aiutarti a prendertene cura questo canale potrà esserti utile in futuro ti consiglio di iscriverti grazie ancora per l'attenzione buon proseguimento grazie a tutti Grazie a tutti.